Sono stati fermati durante un controllo e trovati ubriachi ed in possesso di sostanze stupefacenti, due trentenni sono stati così denunciati, uno per guida in stato di ebrezza e l'altro, il passeggero della Fiat, punto, controllata durante un posto di blocco in via Due Fontane per uso di sostanze stupefacenti. Sono stati quindi condotti in questura dove il conducente è stato sottoposto all'alcol test con esito positivo, infatti il risultato dell'analisi è stato 1,19 grammi di alcol nel sangue e dalla perquisizione personale seguita su entrambi sono stati ritrovate due dosi di sostanza stupefacente, una di cocaina e una di hashish, all'interno della tasca dei jeans del conducente una dose di hashish addosso al passeggero.